Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Lorella Cuccarini si è fatta male nel corso della registrazione della quarta puntata del serale di Amici durante il guanto di sfida tra i prof Accasciata Lorella Cuccarini.Ormai da qualche anno la Cuccarini veste i panni di insegnante nella scuola di Maria De Filippi, è considerata dai suoi allievi non soltanto una maestra ma anche un'amica Sempre solare e divertente è uno spasso per tutti soprattutto in coppia con il maestro di ballo Raimondo Todaro La puntata andata in onda ieri sabato 9 aprile 2022, è stata registrata giorno 7 e come succede in tutte le puntate oltre alle classiche esibizioni degli allievi ci sono stati i guanti di sfida tra i maestri di due squadre A scontrarsi sono state la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e quella composta da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro Lorella Cuccarini.I primi si sono esibiti sulle note di Dirty Dancing, i secondi hanno vestito i panni dei Blues Brothers La sfida è stata vinta dal duo Cuccatolo, per un risultato totale di 0 a 4 La conduttrice e il ballerino sono i migliori. La coppia perdente non è però da meno perché fa divertire il pubblico sia in studio che da casa con esilaranti esibizioni Lorella Cuccarini, le immagini dell'infortunio.Durante l'ultima esibizione Lorella Cuccarini però si è fatta male Al termine della puntata ha mostrato le sue ferite alla caviglia e dal ginocchio dove ha un bel livido Il livido potrebbe essere stato causato da un brusco movimento o da un colpo dato contro qualcosa Ad ogni modo l'esibizione è stata simpatica e vincente, d'altronde come tutte le altre Lorella Cuccarini.Il primo guanto di sfida riporta alla prima puntata andata in onda il 19 marzo Rudy e Alessandra si sono esibiti sulle note di Sister Act presentandosi sul palco vestiti da suore, mentre Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro si sono esibiti sulle noti di Grise ed hanno vinto con grande professionalità Nel corso della seconda puntata Lorella e Raimondo si sono esibiti invece sulle note di Love Boat, Friends e Happy Days mentre Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno rappresentato la famiglia Adams Nel corso della terza puntata del serale i Cucca Todo hanno vinto con la Notte Vola, l'altra coppia si è esibita sulle note di Heidi interpretata da Rudy Zerbi Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video